Si conferma caldissimo l'asse tra Pescara e Inter. La società nerazzurra, proprio nelle ore che hanno segnato la rimodulazione della proprietà, si è fatta avanti per Gianluca Caprari, cui è fortemente interessata. Resta fermo che l'attaccante, anche con questa ipotesi, giocherà in rival adriatico anche nella prossima stagione e potrà proseguire il suo percorso di crescita dopo la svolta del campionato appena chiuso. La scintilla che ha aperto il fronte è il forte interesse del Delfino nei confronti del terzino sinistro Cristiano Biraghi, specie dopo il mancato riscato di Alessandro Crescenzi. Biraghi sarebbe il giocatore ideale per il binario Mancino e nel caso Caprari l'adeguata contropartita per arrivarci acquisendo il cartellino a titolo definitivo. Nell'affare Caprari finisce anche l'attaccante rumeno Giorgio Puskas, classe 1996. Arrivato in Italia nel 2013, il possente centroavanti è stato un punto fermo della primavera nerazzurra per un biegno. La scorsa stagione in prestito a Bari si è fatto apprezzare nella gestione Camplone 5 gol in 17 presenze, 9 da titolare. Puskas arriverebbe con la formula del prestito. Per Caprari però resta sempre attuale l'ipotesi Napoli che dopo la beffa alla Padula potrebbe vedere sfumare un altro obiettivo. Tante le valutazioni dunque che il presidente Sebastiani dovrà fare per non guastare i rapporti con i partenopei. Restano un paio di suggestioni. Alberto Girardino, il cui ingaggio però supera il milione di euro, impraticabile, e lo svincolato Marco Borriello, ma il presidente Sebastiani non ha confermato l'interesse per i due centroavanti veterani. Intanto si lavora sul fronte Arlind Ageti, il difensore della nazionale albanese fa gol al Delfino, ma la strada per arrivare a lui è particolarmente impervia. Si cerca l'accordo sull'ingaggio con il papà procuratore, ma c'è ancora una certa distanza. Peraltro c'è il forte rischio di un'asta, visto che su Ageti hanno messo gli occhi anche Atalanta, Lazio e Bologna. Gli eurobici sono fortemente interessati. Non solo, le brillanti prestazioni dell'europeo hanno attratto l'attenzione di squadre di altri campionati europei, fra cui lo Stock City in Premier e il Werder Bremen in Bundesliga. Chissà se per i biancazzurri potranno contare le parole spese dal compagno di nazionale Memushai. Sempre per la difesa non si spezza il filo con il terzino del Vicenza Delia, con il centrale di proprietà della Roma Ghiomber e con il centrale dell'Atalanta Stendardo, se non si dovesse arrivare all'accordo definitivo con gli obiettivi principali, appunto Ageti e Biraghi. Grazie a tutti.